olio amico se siete venuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qua su mirror edge catalyst stiamo facendo questa missione per nova credo, volevo prendere questa cosa perché non ho capito bene che cos'è e quindi volevo prenderla, per nova si per nomad come si chiama? ok qui vecchi amici, novad vuole che aiuti gli esiliati nelle zone di lige prendendo il chip di controllo dai ripetitori della all com spazi per la città sembra facile ma fai attenzione alle pattuglie della kugelset, ok ok ma io li ammazzo tutti dai c'è siamo fate, amica siamo don giovanni vigilante cavolo è successo commettimento per evitare di fatti colpire, ok bellissimo sto inizio per giunta aia però si faccio così, ok mi sono fallita? ah perché mi dovevo per forza spostare pizza poi vabbè comunque lo faccio così ah ma non succede niente lo stesso ma allora io l'ammazzo allora io l'ammazzo sto tizio cavolo ok poi c'è l'altro chip non so quanti ne dobbiamo prendi però ok di la ok vedo che comunque ci saranno altri altri tizi credo ok vai di qua bene dove stiamo passando comunque quanta gente oh buf 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 daf ok che vuoi? come mi sono fallita? come? ca allora allora per per vigilante a sinistra a destra aah ok ce lo fa oh come ti sei permesso? si sacco sacco oh grande è caduto ok no aspetta il chip sta qua oh ok ne ho preso un altro ottimo ancora uno e poi ti lascerò in pace ma tranquillo che tanto noi ma vabbè ma la gente però versi versi che attacchi scatta lì indietro per evitare i colpi aia 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 e e e ma perché mi ha preso? perché mi prendi? raga mi prendi? raga mi prendi? basta ma è rotto cioè raga veramente non muore cioè mi colpisce lo stesso ma vai a cagare ma vai a cagare che piacere guarda vai veramente a cagare ah ok ok ho preso l'ultimo perfetto oh che pizza oddio lo stanno a picchiare lo dobbiamo sempre ho sbagliato pensavo che si potrebbe vabbè comunque sono arrivata alla parte dove dovevo andare dai non è giusto solo perché è di casta basta ragazzi lo vedete il cattiveria ma ma lo salvo io adesso lo salvo io boom buff ah grazie grazie infinite ho visto tutto fate te l'ho detto che non potevi ingannarmi ho appena aiutato quello della catta bassa Noah si ha preso dai suoi genitori ma cosa è una brutta cosa continua a cercare i ripetitori in città fate sarà di grande aiuto per gli esiliati ok ok ora dobbiamo consegnare i primi chip non me ne immaginate dove il marcatore sulla mappa indica un punto di consegna e andiamo a questo punto di consegna allora buuuu 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 ragazzi veramente vi da un senso proprio di libertà questo gioco e ve lo consiglio tantissimo se non l'avete già giocato già giocato ovviamente c'è 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 cioè cavolo ok non so quanto sia lontano sta roba per consegnare sti cosi però ok se facciamo così non so che è sta falla rete però ok comunque ci da punti quindi perfetto ok dovrebbe stare questo qua ok si come l'acqua devi consegnare il chip di controllo al punto di consegna vicino ma lungo la strada ci sono numerosi guardie della Krugerstack elimina e conserva lo scudo concentrazione finchè non raggiunge il punto di raccolta si ma perchè mi devi fa torna indietro allora? cioè non ho capito ok vabbè abbiamo capito che c'è della gente di merda consegna il chip di controllo usa per fiuttore gli attacchi trasversali e morti prendi vicino a rallentare rimani concentrata fino al punto di consegna sentite il mio commetti troppi errori non ce la farai in questo modo ok 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 molto bene continua così boom ok ce l'abbiamo fatta senza sconcentrarci un attimo oh è divertente raga è veramente divertente fare così eh ok e ma dove devo andare? ok adesso devo andare praticamente ad un'altra parte ad un'altra parte eh ok 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 quindi se dobbiamo acchierare una roba? esatti si ok ok anche perché credo che ci siano oltre alle missioni principali un sacco di secondarie anche perché la città già è molto grande quindi comunque abbiamo la possibilità praticamente quasi immensa di fare un sacco di roba intanto noi andiamo a fare un pochino quelle principali tipo facciamo questa principale e poi ne facciamo qualcuna secondaria tipo stacheraggio se se l'accheraggio di sti schermi non è già una principale insomma non lo so intanto facciamo questa ok qua di nuovo in partita perfetto vediamo che cosa succede o Icarus è ora di stabilire chi comanda adesso boom è quello che sto facendo no no ok ok ah ecco no perché perché solo con una ragione ehi ho interrotto qualcosa no abbiamo finito c'era questo gioco non ha alcun senso ti ci abituerai fate mi batteva sempre lo batterai ancora allora hai una corsa per me certo on on laboratorio Elysium dati d'alto profilo ben pagato un furto all'Elysium sarà pronta perché non ne rasti fuori andrai con lei so badare benissimo a me stessa no come l'ultima volta andrai da sola ma Icarus ti terrà d'occhio sentite tengono molto a questi dati in particolare quindi non possiamo sbagliare chiaro il mio compenso da babysitter un terzo della grana oppure incaricherò Aisha e Caleb scegli tu va bene ci vediamo la fate oh e cerca di non perderti vai non lasciare che arrivi prima ok raga non dobbiamo lasciare che arrivi prima no quindi andiamo andiamo ok ragazzi sono matta non so no non mi interessa ma che lavoro vabbè a cagare dai ragazzi dobbiamo spiegare non so dove stai che Rosso va a finire che è già arrivato via Tiveria però no non credo ok non sto capendo che arrivi che mi stai dicendo però non mi prega scusi ho già metà strada ma certo che arrivo prima ti faccio vedere io ti faccio vedere di merda dato questo ragazzi veramente ci sta ne volendo un sacco ci sta proprio ne facendo di più anzi anzi Filtro è una che veramente boom graf the way allora di nuovo in partita Noa ti è incaricata di rompere le laboratorie Elysium dove devi rubare di dati su un nuovo tipo di enzima a ambito vabbè dalla concorrenza e che Rosso resterà di guardia all'esterno per accertarsi che tutto proceda a secondi cani hai con te un incursore uno strumento di aggraggio unico che dovrai solo collocare sulla console giusta lasciando che il software all'interno si occupi del resto questa è la tua prima vera missione e il compenso dovrebbe essere buono un piccolo passo per ripagare il tuo debito con Dogan che ancora non mi ricordo che è dog comunque sono arrivato prima io a rompere le scatole signora serata è giorno non so se cosa pensare ok ma levati tu ci penso io ok con questo sa già tutto qui era la finestra ok 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 qui e credo che non ci do non ci dobbiamo far vedere comunque oddio il sacco paura raga bluf il dipartimento agricolo occupa i piani più alti il modo più veloce per salire è usare gli ascensori vabboli cambi gli ascensori tutti poter ah no ok perché qua oddio 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 allora credo che dobbiamo invece andare dall'altra parte perché pensavo che lì fosse ehm aperto e invece no quindi non lì qua oddio 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 madonna quel deficiente di canossa rimarrà a bocca aperta ragazzi quando ci vede che siamo riusciti a fare le robe belle e lui no oddio oddio ma come fanno a vederci quelle lì ma scusatemi sono veramente scemi poi sotto che non c'è nessuno mi pare un po' strano però va bene ragazzi l'importante è che non ci vedono perché mi sa che essendo ci ammazzano la famiglia ok quando trovi gli ascensori puoi scalare una delle trombe o sfruttare una cabina che sale ok a quanto pare non funziona sto ascensore oppure funziona ma non è utilizzato in questo momento ma se li utilizzassero adesso praticamente credo che li faremmo fregati ma ehm sono dettagli ok di qua di qui di qui aspetta oddio stanno usando l'ascensore oh mio dio ok credo che sta di qui l'uscita vero credo di si comunque aspetta lo so che ci vediamo un pochino si ok dai 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 su ok oh ecco dai chissà perchè questa cosa stava aperta ragazzi eh mmm ok ok dovremmo annullare l'incarico no andrà fino in fondo perchè non vuole annullare tanto non posso impedirtelo cos'è? la registrazione non ho capito che ha detto ok ok di là buff oh fanno il documento ok non so che sto a prendere ragazzi eh però io non so perchè stavo passando lì ok si sa perchè Gabriel Kruger è in condotta con la famiglia Molter è benissimo meno ne sappiamo meglio è sapere è potere no per alcuni ok di qua c'ho il presentimento ragazzi che ehm c'entra qualcosa di brutto e che veniamo beccati non so perchè però c'è sto presentimento bruttissimo ok no ok io ovviamente non so ascoltarmi cosa stanno dicendo però ok che figata è? ah bene connettiti a un terminale nella tazza di lavoro 4H l'incursore farà il resto allora vediamo dove salire forse su sta luce no oh salve eh ok però se non lo ok vediamo sì perfetto di qua vediamo se sta aperto qualcosa no però forse possiamo passare ok sì boom e boom ok adesso sempre di qua probabilmente eccolo ok merda ma chi è quel tizio? c'è qualcun altro non sembra un altro un altro ladro scusa ma voglio dare un'occhiata non ne lo vediamo rimarrò qui a sperare che tu esca tutta intera se dico se io non ci sei fete non devi dimostrarmi nulla devi voglio solo che torni sera e salva ok io voglio vedere chi è un ladro credo ma anche lui è passato per di qua in sta roba che non lo so credo di sì perché se è tutto aperto non c'era via d'uscita quindi credo che quel tizio sì infatti sia passato proprio per di qua cosa fai non me ne frega niente ok sto perdendo il contatto se non puoi parlare fai solo un video what? ok vediamo che succede se rispecchiano i risultati di ogni rematto buono sapete signor Kruger siamo... ma che... direttore Mera l'allarme pensate a lui parla Mera abbiamo un codice blu il dottor Hill è morto che? bloccati fuori e allora sognete il blocco il mio codice è 77090 ehi! lo voglio vivo cosa aveva in mano? c'è un oro che spreco è quello a fare? fermatela sequenza di sbaramento dell'edificio è iniziata terminerà tra 60 secondi dai raga ma perchè sono così sfortunati? chi è quello? ma no già con le pistole di merda ho capito brutti vizi schifosi si ah dobbiamo scappare raga non è che possiamo metterci ahia ahia guardateci guardami ma ma che cosa vuoi? dove possiamo uscire cavolo? ok non è morto sto ok questo lo ammazziamo subito ok scappa 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 compagni Alba wow yes un elicotto oddio oddio dobbiamo fuggire dobbiamo fuggire intanto io caruso mi sa che è rimasto là intanto con un deficiente credo che si è scappato eh e qual è la prima cosa che fai appena torni libera? eh non so neanche perchè te lo dico dai vedo che siamo quasi arrivati ma sa che non ci stanno a segno più però ok quindi hanno visto anche loro cioè hanno visto anche lui questo me lo prendo non so come leggerli questi documenti però poi lo scoprirò ok anche perchè mi sa che appunto noi li abbiamo segnati tutti? credo di si ok però stiamo a casa eh wow ce l'abbiamo fatta ok ci da comunque il segnetto della della cosa principale cioè di un'altra missione credo che ragazzi nel prossimo episodio comunque farò qualche missione secondaria in modo da poter sbloccare più punti e anche insomma di sbloccare credo comunque più cose perché ci sono veramente mi pare un sacco di missioni secondarie comunque che nel prossimo episodio vedremo e poi insomma ogni tanto faremo questi episodi staccati per missioni secondarie poi riprenderemo normalmente con le missioni principali eccetera eccetera insomma comunque vedo che possiamo fermarci con questo episodio lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti